Se anche tu hai questo in casa tua, allora ti consiglio di seguire il mio video dove ti spiegherò cos'è e come far a risolvere il problema Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Gun On Ci sono diversi tipi di muffa Oggi noi andremo a parlare di quella muffettina color marrone nero che si crea in ambienti umidi Sigla! Stiamo parlando della muffa nera Quella classica muffa che si crea in ambienti molto umidi Con una percentuale di umidità superiore al 70% Solitamente la troviamo in cucine, bagni o comunque in camere poco ventilate E come si forma? Beh, come ho detto prima, si forma grazie all'umidità Avete presente quando fate le docce e create quel microcrime equatoriale in bagno? Ecco, quello è il terreno ideale per far proliferare questo tipo di muffa E cosa fa? Va ad aggrapparsi ai ponti termici di quella stanza Quindi può essere una parete non isolata che dà sull'esterno Oppure anche il cornicione degli infissi E poi da lì parte a proliferare Ma è pericolosa! Tutte le muffe non sono da prendere sotto gamba Difatti, oltre al fattore estetico, rendono anche insalubri gli ambienti E possono anche creare problemi di salute E allora come le eliminiamo? Beh, è semplice Seguitemi nel mio video e vi mostrerò come fare Per prima cosa muniamoci di Mascherina con filtro Occhiali protettivi Guanti in lattice E infine il prodotto che andremo ad utilizzare Se vi dovesse interessare il prodotto che ho utilizzato Lo potete vedere qui in descrizione Seguitemi! Grazie a tutti! Trascorsi una ventina di minuti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Bene, io vi ho mostrato come eliminare questa muffa, ma attenzione, perché se continuerete a creare un ambiente favorevole alla muffa, di sicuro prima o poi ritornerà. Quindi il mio consiglio è quello di predisporre un deumidificatore, altrimenti una ventilazione meccanica, o se no ancora di chiudere il box doccia in modo tale che l'umidità rimanga dentro nelle pareti e non esca all'esterno. Se invece avete un altro tipo di problema, come può essere l'umidità di risalita oppure l'intonaco che si spacca, vi consiglio di vedere in questo video. Con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima!